Non di un'era di là da venire, dove tutto sarebbe stato migliore e diverso. Questa idea dilagò nei villaggi come un vento caldo e asciutto e si portò via chiunque sapesse fare qualcosa. E si portò via mio figlio. Lo vogliono crocifiggere, mi disse. Quando? A breve. C'è qualcosa che possiamo fare per fermare tutto questo? No. Ma devi scappare prima che venga il giorno. Verranno a cercare tutti i suoi seguaci. Io non sono una sua seguace! Poi mi girai e lo vedi. Era tornato tra noi. Risaliva insieme al fiume e il suo potere lo faceva emergere dalla terra. Era nudo. E le sue ferite sulle mani e sui piedi, dove erano state spezzate le gambe o sulla fronte dove c'erano le spine, erano circondate di lividi blu ancora aperte. Il resto del corpo era candido. Ci stupì il bagliore, difficile da descrivere. Per il mondo è un'immagine al fiume. Lo che si tracciò era un po' di più. E' un'immagine al fiume. Era un po' di più che non so' di più che non so' di più. Grazie a tutti